E' più bella però Ragondeggiamento I'm a machine when I do it I'm a machine when I do it Lizzuariana Good as hell Ciao a tutti noi siamo i The Babes Ragazzi benvenuti in un nuovo video Oggi faremo un video per tutti gli Arenators che ci seguono Soprattutto su Instagram Un bacio a tutti i nostri Arenators Ma prima di iniziare seguiteci subito su Instagram Esatto E da oggi siamo anche su TikTok ragazzi Se voi volete fare due risate Postiamo ogni giorno qualche video cretino che abbiamo fatto tra di noi da soli Ci divertiamo troppo Andate subito sempre The BabesTV Vi lasciamo il link sempre in descrizione Bene Perché vogliamo fare questa reaction oggi Cristian Esplenaci perché parlo sempre io Non lo sappiamo Abbiamo semplicemente Nooo Abbiamo visto che ha fatto uscire questa canzone con Lizzu Ariana Grande che si chiama Good as hell E noi adoriamo Lizzu Esatto ci fa ammazzare dal rinno Ci fa schioppà veramente È fantastica È veramente fantastica Ha una confidence Una sicurezza di sé che non ha nessuno sul pianeta Secondo me è troppo forte L'adoro Ci piace Ma c'è una voce tra l'altro Sì però anche a me piace Mi piace per Lizzu e Ariana Grande in Mediatamount Ciao Oggi siamo un po' esauriti Sì infatti Comunque È uscita questa nuova canzone Cioè in realtà è una sua canzone vecchia che noi conosciamo bene Featuring Ariana Grande Quindi avremo le loro due voci Che si incastrano Mescolate insieme Vediamo com'è Intanto ci arrivano mille notifiche da Whatsapp Di voi che ci dite che Sì evviva fate questa reaction E noi la stiamo facendo Esatto Noi stiamo facendo questa reaction Mentre voi ci scrivete dal vivo che volete questa reaction Cioè meglio di noi ma chi vi ama così tanto Prima di iniziare Ricordatevi di iscrivervi al canale Attivare le notifiche Seguirci sempre su Instagram E su TikTok pure Su TikTok pure TikTok on the clock Esatto Prosto Poi il tradotto Kesha ha fatto uscire una nuova canzone Però vabbè c'è trocazza Era perché avevi cantato Kesha Vabbè si chiama TikTok Esatto Che mi piace un sacco Sì certo Una canzone del 2010 ragazzi Quando i Cristiano avevano ancora dei pargoletti Sto pronto Direi Bando alle ciance Iniziamo subito Quindi la sentiamo con Spotify Ottimamente è sempre Spotify Se ci vuoi pagare Spotify Visto che noi paghiamo te Ma non ti sembra il contrario Esatto Oppure dacci abbonamento gratis Li sponsorizziamo Esatto Chiamaci Adoro E fin qui L'ho già sentita un pochino Non ti viene già in mente Cosa? Ma tu l'hai sentita questa? Non l'ho sentita Però mi è venuto quel tempo Quando fa Goodeser O in radio magari me le mettono a caso Io cambiando Io l'ho sentita Goodeser Quella fa Il remix Non avevo capito Che era il remix Con Ariana Grande Mi piace per Cristiano Che tutto in diretta Non sapeva nulla No è un remix Quindi È la canzone originale Che io ho già sentito Ma vedi Alla di che c'ho scaricata Vado Grazie Comunque c'è una bellissima voce Liz Mi piace un sacco A me il gusto Adoro Cioè mi piace tantissimo Comunque è bella Che bella voce che ha Che bella voce che ha Cioè brividi È una cosa incredibile Arianna ogni volta Qualunque nota che fa O se canta basso o canta alto C'è sempre questa voce così angelica È incredibile È veramente incredibile Comunque io lo ripeto Per l'ennesima volta Per me Ariana Grande È una delle voci più belle Di questa generazione Decisamente Proprio Non può piacere le canzoni Oh beee Oh beee Guarda di base Curiosità Quando io e Cristian Ci mandiamo i messaggi vocali Via Whatsapp Mettiamo sempre il vocale Salvato Con lei che fa Oh beee Oh beee Sotto Io ho già stanito Più da più alto Sì sì Quindi questa è una curiosità Quindi Per dovere Grazie Arianna Grazie curiosità sui dei babes Oh 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 Eccoli Questa è una delle mie canzoni preferite del momento Mamma mia Mentre pulisci casa Troppo carine Hanno due voci completamente diverse Ma poi il ritmo è troppo bello Sì È troppo bello È proprio gioioso Esatto Ti fa venire proprio voglia di ballare Mamma mia sto perso Ho piaciuto i brividi Sì Bellissimo Poi lo spettavo Ehm Qua Ecco ecco risentiamolo bellissima con le risate alla fine fantastica quando l'hanno fatto sicuramente si sono ammazzate mi dà proprio l'idea di loro nel studio di registrazione che ballano soprattutto ariana che dice baby ogni due per tre mi piace proprio come parola bella mi piaciuta un sacco di vita mi sento gasata si finalmente un po di canzoni di quelle che proprio c'è vabbè quelle canzoni che c'è proprio ti gasano quelle da sentirti mentre stai in macchina o stai pulendo casa con lo cifo che ne vuoi l'aspiratore esatto fino a che non diventi ricco e qualcuno pulisce per te esatto a quel punto le senti sul letto con il drink o alle hawai a parte i nostri sogni di ricchezza che non avremo mai però a parte questo sì bella promossa a fini voti mi piace un sacco mi piaceva l'originale ma con ariana lizzo sei brava ma con ariana che è nata proprio di culo bellissima poi ariana c'è questa voce la grazie è una queen niente da dire proprio ormai si sa è una queen fantasticissimissima è una queenissima intanto a qualcuno piace il nostro video oh il nostro tiktok seguiteci sul tiktok è vero che ci stanno tutti quindicenni sedicenni e noi siamo troppo vecchi ma non è vero perché ho visto anche un video ho visto anche un video di will smith su tiktok allora quindi sono pa will smith cioè scusa che will smith può fare tutto va bene va bene va bene quindi questa è la nostra reaction speriamo vi sia piaciuta ricordatevi di iscrivervi al canale per come lo so quindi io mi ho rimasto in te seguiteci su instagram e su tiktok esatto attivate le notifiche pure ci siamo scordati esatto tutti i link qua sotto in descrizione di facebook che non lo promuoviamo mai però c'abbiamo anche facebook facebook instagram e tiktok siamo tutti 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 è tardi scusami io non ho più animo vabbè direi che siamo arrivati all'esaurimento comunque non facciamo uso di droghe perché è preoccupato per noi esatto tu quello state tranquilli bene quindi detto questo ciao ciao Grazie a tutti.